Cosa fa un architetto? Quali sono gli ambiti e le discipline in cui opera? In quali settori esprime le sue competenze? A queste e tante altre domande risponde il progetto Open Studi Aperti. La manifestazione, promossa dall'Ordine degli Architetti, che anche a Bari e provincia vede gli studi professionali di settore aprire le porte alla comune utenza, agli studenti e alle dette ai lavori, per far conoscere e valorizzare una professione dall'alto valore sociale e che risponde ai bisogni dell'intera comunità. Tre gli studi aderenti nella città di Bari, che hanno promosso eventi sui temi della sostenibilità, degli spazi urbani e privati, del benessere del workspace, aprendo anche gli stessi cantieri già portati a termine. Questo spazio una volta era una lavanderia e quindi abbiamo rispolverato invece l'architettura di questo involucro per raccontare la natura del legno. Rede l'esposizione in legno, materiale che domina lo spazio e lo arreda con funzionalità. La volontà di questo progetto è quella di offrire all'utenza un vestito, quindi realizzare un interno come se fosse un atelier, quindi rivolgersi in un atelier di moda, in questo caso un atelier del legno. E quindi sono stati realizzati questi spazi espositivi dove le teche del parquet vengono appese con delle grucce, come se fosse una sfilata di moda. Iniziative anche a Bitonto, a Modugno, a Conversano, Noci, San Michele, San Nicandro, Trigiano e ancora a Polignano Amare e Acquaviva delle Fonti. Il mio progetto è Oltreforma, che è anche il nome del mio showroom. Qui sono esposte tutte le mie realizzazioni, mi occupo di design, soprattutto di design ma anche di architettura in generale. Grazie. 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 Grazie.